Allora, allora, dovremmo esserci. I dots, i dots. Dai. Vediamo se funge. C'è pure la pubblicità. Dai, su. Ma che è questa che ho fatto? Pubblicità che non paga me. Dai, dai, che devo vedere se funge o no. 30 secondi di pubblicità, non skippabile. Dimmi te. Oh, allora. No. Ci siamo? Allora. Sì, ci siamo, dai. Allora. Oh, se sente pure. Solo che... Devo spostare la telecamera. Vediamo un po'. Vediamo se così funge. Che qua mi arriva in ritardo. Perfetto. Oh, raga. Perfetto. Va bene. Allora. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Che dovrebbe collegarsi un po' di gente. Dovrebbe esserci Michelotto. Vediamo se arriva Michelotto. Eccolo qua. Grande Michelotto. Mori il rosso. Eh, lo so. Lo so. Ci credo. Ci sono tutti i migliori adesso. In live. Zano. Tutta la gentaglia di... Gentaglia, vabbè. Comunque. Comunque. Non si trova nulla nei pacchi. Giustamente ho 0 FIFA Points. Perché ho 31 pacchetti da aprire. E me li sono conservati tutti. A parte questi oro che fanno un po' schifo. E gli oro premium maxi. Ok. Giocatori oro. Giocatori oro prime. Quindi. Un po' di più. Poi tutte ste schifezze qua. Giocatori rari maxi che... Non mi ricordo se è il 100k. Questo qua è pacchetti mega che fanno schifo. Ma che è pacchetto raro. Zinco prime. Zinco rari. Vediamo se riusciamo a trovare almeno almeno qualcosa di buono. Mi auguro un paio di walkout. Politano prime. Politano prime però non è male. Dai. Partiamo col primo. Che questi non si troverà nulla assolutamente. Giusto. Gli schifiamo anche. Perché tanto i pacchetti oro hanno... Già uno raro è proprio... Però io tengo tutto tranne ste robe qua. Perché comunque ho bisogno di giocatori... Per fare le sbc. Giustamente. Vai vai. Schipa schipa. Tanto non si trova niente. E beh. Zinco rari giustamente sono i miei. Allora. Teniamo questo. E buttiamo via il resto. Infatti i zinco rari sono gli ultimi... Da aprire perché... Sono i miei. Giustamente. Se non trovo io niente negli zinco rari. Nulla. Nulla. Ok. Ciano. Allora. Abbiamo trovato Ciano. Alla prossima troviamo un Toz. Troviamo Salah. Zano ha trovato Allison. Venduto subito a 300k. Così. Io aspetterei se... Se dovesse trovarne un... Anche inglese. Niente. Vabbè. Ci sono tutte le... Tutti i presupposti per trovare qualcuno ragazzi. Abbiamo trovato Ciano e inglese. Quindi. Dovrebbero portare fortuna allora, no? Bello, bello. Bellissimo proprio. Quando i pacchetti non si aprono, eh. È una gioia per gli occhi. Però ottima, vabbè ragazzi. Stiamo trovando tutti, stiamo trovando. Buttiamo via tutto. Tranne questi che mi servono. Raffael. Sì, lo buttiamo. Il Malaga. Ok, vai. Oh, se stiamo a fare i crediti. Ammazza. Oh! Non ci credo. Blu, dai. No. If. If, if, if. Va bene. È un walk out. Bellissimo. Raul Garcia. If 84. Sì, a ottobre è buono. If 84, a ottobre è buonissimo. Comunque c'è anche Mendy. Va bene. Ho buttato via un giocatore che non dovevo buttare via. Vediamo che ci sta. Ok. Questi servono sempre. Coreani. Ti fanno trovare Son. Grandi emozioni con guidetti, eh. Grande guidetti. Comunque, walk out l'abbiamo trovato. Meglio di niente, giustamente. Pacchetto da 15.000. Scione. Grandissimo. Pardo. Vabbè, abbiamo trovato anche Pierluigi Pardo, ragazzi. Oh, un po' di forme fisiche che servivano. Spinazzoula. Ah, questo lo teniamo. Porta fortuna, Spinazzoula. Vai, altro oro premium maxi. Non ci credo, walk out. Non sarà mai blu. Un altro if. Messi. Eh, un altro 84. Va bene. Va bene. Gaetano. Grande Gaetano. Oh. Ionescu. Ma questo è Agi. Ci assomiglia. È lui. Va bene. Lo tengo soltanto perché assomiglia a Agi, eh. Il nostro romeno preferito. Va bene. Vai, vai. Oh, due walk out li abbiamo trovati. 84 if. Però. Non si trova niente. Non si apre neanche. No, Milinkovic Savice, ragazzi. Che è successo? Droppe, no. Vabbè, 10k ce li fai. Vai, grandissimo. Questo lo mettiamo subito. Bene. Vai, vai. Un po' di forme fisiche. Anna dai capelli rossi. Grande Paul Heyman. Ciao, Paul. Abbiamo trovato Agi, dai. Come fai a... A non voler vivere. No, ragazzi. Pure paletta, no. Cioè, paletta è... Rolando Maran. Si chiama Rolando? Non mi ricordo. Ma sì. Copenhagen. Jamerson. Vabbè. Abbiamo ritrovato Agi? È sempre lui. Ci assomiglia. Bene. Eh, c'è Michelotto in chat, però è un po' che non si sente. Sarà svenuto che abbiamo trovato Agi. Mamma mia, ragazzi. Ammazze giocatori, oh. Giocatori Oro Prime, dai. Sei felice, mazza, oh. Ti accontenti di poco, però. Accontentarsi di essere felice di essere cagato da me è una bella cosa. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Dai, almeno uno. Ti prego, FIFA. Uno. Mamma mia. Mazzze, schifo. Nulla di nulla. Digne. Digne è uscito Tots, però non si trova nei pacchi. Perché è solo con SPC o obiettivi settimanali, adesso non mi ricordo. Bellissimo, bellissimo. Dai, però. Siri, Guzzazzo, tutto il Torino abbiamo trovato, bellissimo. Vabbè, giocatori Oro Premium Maxi qua. Non si trova nulla. Siete tu e Paul che scrivete. Degenerate. Jovinco, grandissimo Jovinco. Joao Mario, Bastos. Quanti giocatori ragazzi. Qua ci facciamo l'SBC come se Piovesse. Non so cosa ho detto, però. Dai, dai. Niente, 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 niente. Allora, diciamo che... Vabbè, Cramaric e Dost. Va bene, dai, 83. Ci stiamo. Ancora Digne. Questi mei tengo, dai. Mancano 15 pacchetti. Vediamo di trovare qualcosa. Oh, walk out. Blu. No. Ancora If. Un altro 84. Batasciui. Cheat. Oh, Lorenzini Insigne. Oh, quanto vale? Non varrà niente. 20k. Vabbè. Forse, forse ci facciamo qualcosa con Lorenzini Insigne. Dai. Batasciui. 30k. Va bene, va bene. Ok, son contento allora. Va bene. Come non puoi abbonarti? Abbonati, abbonati. No, puoi fare la donazione. Non viene fuori sullo schermo. Puoi fare una donazione di 1000 euro, se vuoi. Tanto sei ricco, no? Eh, per Insigne è 200 milioni di crediti. Come non c'è il tasto? Scorri. No, Viviano. Abbiamo trovato Viviano. A posto. Abbiamo trovato Viviano. Allora... Questo è TOTS. TOTS. TOTS, sicuramente. Guarda. Blu. Anche Nikon, eh. Non è che mi farebbe schifo. Mai trovata. Mamma mia, 79. No, te ti scarto. No, per abbonarti, credo che... Per l'abbonamento bisogna avere... Cioè, io dovrei essere partner di Twitch. Però per la donazione c'è Streamlabs, ma... Stavo scherzando, cioè... Io sono ricco, quindi... Vado... Dai, guardiamocelo questo che si apre. Svizzera, Sommer. Ormai... Ormai lo sappiamo. Bene, bene. Quaresma, ragazzi. Proprio... Un po' di forme fisiche. E andiamo, vai. Vai, mancano dieci pacchetti, oh. Tramite Amazon Prime... Eh, lo so, lo so. Digne! Oh, ma loro lo fate apposta, però. Cioè, è la terza volta che trovo Digne. Se ci potevamo abbonare, ti donavamo un milione. Il milioncino. Adesso divento partner di Twitch e voglio il milioncino, però. A Ciccio Gamer... No, a Ciccio Gamer no. Esci dalla chat subito. Ciccio Gamer no. David Luiz... Bene. Bellissimo. Bellissimo. Kagawa. Suso. È un po' di 83, dai. Possiamo farci qualche sbs. Qualche sbs. Ma follettina creation. David Luiz e Gervasi, è vero? Allora, mancano nove pacchetti. Abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque... Cinque pacchetti mega. Da tutti sottovalutati. Infatti fanno schifo. Un mega pacchetto raro. Un giocatore zinco prime. E due zinco rari. Sono tutti scambiabili, eh, comunque. Povero zinco, lui ha tanta fame. Eh, è vero. Andiamo a vedere un attimino cosa c'è adesso. Giocatori oro prime. 3,8% di... Mamma mia. Settimana scorsa che sono usciti quelli scarsi c'era il 24% di trovare un toz. David Luiz prende a testate il palo della porta. Ma che non siamo su Cared Against Humanity, eh? Humanity, sì. Humanity, sì. Niente, pacchetti mega sono così. Bassi. Ormai lo sappiamo. Timo! Timo Werner. Sono contentissimo. Perché ho la versione 83. Super sub. Tra virgolette. Ma che è sta cafonata? Vabbè. Scelta giocatore fino a 80 di overall. E chi me vi io? Prendiamo Begovic, va. Che da Premier. Timo Werner. Vabbè, 8K. 7K. Vabbè, buene. L'essenza di Timo, eh. Ti viene voglia di Card Against Humanity. Eeeh. Eeeh. Hm. Io ci farei un pensierino, eh. Oh, bello, bello. Un po' di forme fisiche. No, quella del Chievo la tengo, dai. Per rispetto al Chievo. Vai. Altro pacchetto mega. Toz. Proprio. Non si apre neanche. Mamma mia. Trap. Grandissima. Georgesco. Tutti i romeni stiamo trovando, eh. Sia mai che ci capita Agi. Se ci capitasse Agi. Io anche lui farena. Ah, scherzo. Cavaggero. Un pacchetto giocatore. Va bene. E che ho butti. Che fai, ho butti. Vediamo che è. Ah, no, pacchetto due giocatori. Uno raro, va bene. Esce Agi. Toz. No, però, prime. Anche medium. Anche baby. Oh, Witzel. Witzel non è male. Va bene. Va bene. Questo. Lo scartiamo. Vai, altro pacchetto mega. Almeno un walkout, però. No, niente. Io li schifo, perché veramente... Forsberg, dai, ragazzi. Ammazza, è schifo. Diciamo che... Puzzeno. Ah, G-Prime fortissimo, 99 di coltellata. E in effetti... Niente. A 99 di coltellata... Oh, Politano... Vabbè. L'abbiamo chiamato. Politano Prime. Va bene. Costa niente, poi. Politano Erfenomeno. Questo è merito di Michelotto. Allora, Michelotto, fammi un nome di uno della Premier che è uscito, Toz. Almeno esci. Vai. Pacchetto mega. Ultimo pacchetto mega. Vai. Si rompeva il gioco. Mamma mia. Eh, eh. Eh. Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Lo chiamano in tutte le maniere. È tanta roba. Ma tanta, tanta roba. 96 di overall. È una bestia. È veramente tanta roba. Politano riunisce le due cose preferite di Michelotto. Che deficiente. Oh, mamma mia. Ultimi quattro pacchetti. Vai. Ma manco che sogno. Ma manco i cani. Va bene, va. Wanyama. Ammazza. Una roba proprio. Goulam. E gioca a Napoli. E si chiama Goulam. Eh, vabbè. Come Alan. Che gioca a Napoli. Alan. Niente. 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 Non si trova nulla. Eh, non si trova nulla. Però. Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Allora. Questo si vende. A 3.000. Vai. Eh, gli argentoni così. E... Allora. Vediamo se c'è qualche... Nulla. Bressan. Vabbè, Bressan, ragazzi. Chi si ricorda la rovesciata di Bressan? Ultimi due. Zincorari. Dai, sono i miei... I miei pacchetti. Va bene. Jonas. Ormai... La bellezza di quest'uomo. Mamma mia. Mi fa vacillare sulla mia eterosessualità, veramente. È bellissimo. Mazza, è schifo. Iaialo. È ancora vivo, Iaialo. Penete. Un altro romeno. Bamburen. Questo è il DJ. Ziani. Va bene. Ma gli algerini... Sono tutti esterni. Esterni e ali. Vabbè, questo lo mettiamo a mille. Magari sopi. Magari ciegascano. Che gli argentoni valghe, no? Iaialo lo terrei. Proprio perché è Iaialo, eh. Allora. Ultimo pacchetto. C'è una leggenda. Nei pacchetti bronzo di Bala di Bala. E si trova un workout assicurato. C'era Neymar, Neymar. Ancora Neymar, Neymar. È un segno. Aligerini, no, dai. Aligerini è bruttissimo. Sai far di meglio. Dai, usciamo, entriamo dal negozio. Tre volte. Come insegna... Come insegnano i grandi maestri. E poi proviamo di Bala di Bala, dai. Era pessima, sì. Proviamo De Bruyne, De Bruyne, dai. Ci credo, vai. Salà. Oh, oh. Un walk out. Vabbè. Niente, Ronaldo. Vaffanma. Ma vaffanbagno. Ma dai. Picchi. Poteva essere Ramos. Poteva essere Ramos. Non te lo dà mai, Ramos. Fabregas. Oh. Quanto sta? A 20k. Eh, ma è buono. La domanda non è chi è, la domanda è piché. Eh. Close. Abbiamo trovato close, ragazzi. Una leggenda l'abbiamo trovata. Icon Prime. Argento. No, vabbè, raga. La scozzarella. Cioè, abbiamo trovato tutti quelli che portano fortuna, ma... The Bruyne. Bruyne abbiamo trovato. Bellissima. Perché piché è arrivato rotolando? Sta insieme a Shakira. E che gli devi dire? Allora, scartiamo close. Adesso metto... Quando lo pubblico su YouTube, metto scartato close. Oh my god. E niente. E niente. Uh, sono usciti 125. Sono usciti 125. 25 euro di pacco. 17... 17% di probabilità di trovare TOTS. Eh sì, sono già le 9. Sono le 9 passate. Allora, prima di chiudere... Andiamo a vedere. Abbiamo venduto... De Bruyne... E Ziani, ok. Poi questi me li metto in vendita. Vediamo cosa è. O se no, ci faccio anche... Le sfide. Perché obiettivi settimanali ci sono... Digne, TOTS, fornisce assist con un difensore della Premier League. Della Premier League. Non so più parlare. In 5 vittorie a rivals differenti. Impossibile. 15 assist in squad battles con giocatori inglesi a livello campione superiore. E Rice non è male. Questo si può anche fare perché squad battles va bene. Questo non me ne frega niente. Digo Miss. Firmino in prestito. Questa carta è una bestia. E... Ci sono le SBC A tema Eh, Alessandro Del Piero. Eh, vabbè. C'è Mbabu Che È una bella bestia. 95 velocità 91 a fisico 88 difesa E... E basta. Sì, c'è Firmino Firmino flashback C'è Una cartina di tutto rispetto E vado a farvi vedere La mia rosa attuale Che è un... Diciamo Perché c'ho Sto esterno sinistro che non c'entra quasi nulla Vabbè Vabbè Scesni Milinkovic Savic Che ovviamente In game Praticamente in game È Così Perché almeno Si gioca meglio Douglas Costa A 99 di velocità Viene recuperato anche da Smalling E non riesco a capire come mai Poi Vabbè A tiro non è male Dribbling Però non... Boh Non rende 64 partite giocate 24 gol 19 assist Non è male Però 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 Mentre Milinkovic Savic Savic 21 assist 43 gol Lui ha un bel tiro E come COC Rende Rende moltissimo Cancelo Niente da dire Perché comunque È Un bel terzino Chiellini e Alexandro Sono gli unici due Oro Normali Oro rari Screener Non è male Mi ci trovo molto bene Bel difensore Ma bello Bello Chesney Vabbè Non ho Nessun Niente da dire Matuidi Vabbè Ormai A fine gioco Un 87 Così Però Fa il suo lavoro De Rossi Ragazzi De Rossi E fuori posizione Costa Vabbè C o c De Rossi Flashback È una Gran bella Carta È un Cdc La paura Poi Fabione Quagliarella Fabione Quagliarella Mi ha fatto 79 gol In 178 partite E 61 assist È un bel Bel giocatorone Poi questo qua Non scambiabile Questo è un Un obiettivo Settimanale Mi sembra Che ho fatto Vabbè Baggio Questo qua Era in prestito L'ho voluto Provare Beh Ho Werner Che Vado subito A scambiare Con La sua Nemesi Timo Werner 84 Almeno C'ha Uno in più Di tutto E Faccio vedere Gli altri Toz Che ho Perché ho Vabbè A parte questi qua In prestito Questi sono tutti Gli if Che abbiamo Trovato adesso Ho Onana What's my name Onana Che praticamente Anche lui Era un obiettivo Settimanale Facilissimo Da fare Quindi L'ho fatto subito Vabbè Questo l'ho trovato Nei pick Taylor E Walker Che praticamente Sono tutti gli obiettivi Settimanali Questi ne ho 1,2,3,4,5,6 7,8 Che posso fare già qualcosa E poi Ne ho un altro Che è qui Che è Collins Che è l'unico Che ho comprato Che è anche un bel giocatore Comunque Diciamo Diciamo un 86 A fine gioco Non è proprio Però Non contate Quattro partite 12 gol Perché li ho fatti Nelle squad battles Quindi è più Facile farli Ho comprato Per 31.000 Crediti Per fare proprio I gol Nelle squad battles Per le Le sfide Infatti adesso Si è abbassato E costa 20.000 Perfetto Quindi non lo venderò Mai È uscito dai pacchi E Si è abbassato Ma Vabbè qua Mi sono dimenticato Di cambiare Ok Vabbè Comunque Adesso nei pick Del foot champions Metteranno anche I tots In teoria Il problema Che non mi sono qualificato Perché Settimana scorsa Ho fatto Argento 2 Perché FIFA si impallava Quindi ogni Due partite Una me la dava persa Per disconnessione E crashava il gioco Si riavviava da solo E praticamente Le ho perse Un sacco In questa maniera E Alla fine Ho disinstallato E rininstallato FIFA Gran stupidata Perché ho il disco Però devi comunque Disinstallarlo E installarlo E adesso non si blocca più Quindi mi sono perso Tutta la La weekend lì Così Facciamoci una partita Division rivals E poi chiudiamo Così vi faccio vedere Un po' La squadra Come gira E mettiamo Forma fisica Vi faccio vedere Anche quanto sono bugate E scriptate Le squad battle Sì Le division rivals E Andiamo Vai Adesso in casa Fuori casa A me ne frega niente Tanto Proprio per farvi vedere Un po' Siamo anche in casa Va bene Se non quit La mia maglietta Le forest green rovers Che purtroppo È uscito In semifinale Uva Che squadra Che ha questo qui Vabbè A parte Emre Can E Lukaku In difesa Che Non dovrebbe essere Fortissimo Ma Corre E il resto Piontek Ce l'avevo anch'io Ne avevo presi 3 o 4 Ci ho anche guadagnato Qualcosina Ok Stava trappanando Il cervello Poi a me A me piace fare Anche un po' di Skill Così anche se non sono capace Va bene Mi diverto Eccolo lì Joao Se fosse così Nella realtà Joao Quanselo Sarebbe Vabbè la bestia In difesa Dico Perché poi Guardalo DDR16 Chi ti ha chiesto Di fare A me fa Nervosire Quando fanno Delle cose Che non gli hai chiesto Tipo allungarsi Il pallone Lì Correre a destra Invece che a sinistra Passare a destra Invece che a sinistra Guardalo Mamma mia Guardalo Ecco Oggi corre Ma tu di Fa ancora Il suo sporco lavoro Quel passaggio lì Proprio Non l'ho capito Non mi è piaciuto Emre cane Emre cane Au Au Ecco Dai Ci abbiamo Scesni Che quest'anno I portieri Comunque Contano Relativamente Perché se FIFA Decide che devi Prendere gol Lo prendi Vai Douglas Vai Douglas 99 di velocità Ecco lì Stavo andando Verso Il centro E lui Ha sterzato Comunque Verso destra Anche se non Gliel'ho chiesto Io Vabbè Ecco De Rossi E Cancelo E Milinkovic Savic Di testa Sono Sono Dalle vere bestie No Ho sbagliato Ho sbagliato Sbagliato Che pippone Che sono E che pippone Che è lui Che era in fuorigioco E gli era comunque Passata Bellissimo Niente Io Tre volte Ho voluto Passarla A Chiellini Ma Non gliel'hanno Data Vabbè Haccio Sbagliate E Chiello Oro raro Ma ragazzi Comunque uno Dei migliori Difensori Base Perché poi c'è la versione IF La versione Champions Che costano Il triplo Vai Klyvert Ecco prima avevo anche Laurent Blanc Baby Centrocampista Però Vabbè Era un centrocampista Normale Era un 85 Per essere un'icona 85 Secondo me Non esiste Allora Allora L'ho messo In una sfida Icon Per un pacchetto Da 100k Che è quello che abbiamo Aperto stasera Per non trovare nulla Vai Douglas E niente Questa la vince lui Qui eh Bravo Aleksandro Ah Vai 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 che la pigli Passaggio a Douglas Costa Quando io gli ho letto Di passarla A Quagliarella C'è proprio Uno davanti L'altro dietro Ecco Si è aperta la difesa Dai oggi corre Douglas Fabione La traversa La traversa Mamma mia Ecco 45 più 2 Occhio che prendo gol Come sempre Lui non ha fatto Ancora nulla Strano Strano L'arbitro Vabbè Lui ha fatto un tiro Io 6 Va bene La perderemo Al 94 Va bene Non c'è problema Tutto lo stadio Ecco Screener Mi fa sempre Sti interventi Questo passaggio Questo passaggio All'indietro Guardalo Mamma mia Mamma mia ragazzi Certo Non segnare Dopo tutte Queste azioni È brutto Puoi prendere gol Puoi prendere gol Eh dai con sto gol Però È FIFA Che decide Quando segni Io non sono un pro Ovviamente Però Con sti giocatori Che ho Dai Fabio Dai Fabio Eh dai Ci voleva tanto Esce il fenomeno Lorenzo Insidio Giocatori più forti del mondo No questo è romano Sbagliato Ho giocatori più forti del mondo Ah Clivert Niente a che vedere Col padre Ma manco Licani Ma manco fallo Bene No Guarda che scambio Rigore Bonucci E che che deve essere Dai 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 Va benissimo Vediamo Doppietta di Douglas Bravo Si è sbloccata la partita Vai Cambiamo il tiratore Vai De Rossi Vabbè Ci abbiamo provato Criticato da suo mister Lui risponde Vabbè Io critico La velocità Perché 99 Di velocità Che è il massimo Non puoi essere Recuperato da Smalling A inizio partita Uno dice Vabbè Si stanco Ci sta Ma inizio partita E' brutto Mamma mia Mamma mia Scrinia ragazzi Che cartina che c'ha Sì Vabbè Lukaku Vabbè che veloce Però Dai Esergé Esergente Esergente Mandata al bar Proprio Ma nooo Smalling Sulla lungo fince Smalling Sbagliato Sbagliato Da prunge Wow Vabbè Io cerco di fare Una finta Non me la fa Oh Ci voleva tanto Ma fa sta Veronica Mannaglia Guardalo Fabio Fabio Quattro Quagliarella Ehi Assorto Guardalo Esergente Vabbè Si è sbloccata La partita Adesso Quitta Dai E o Batti O Quitti Quindici Ha smesso di giocare Ha spagato il pad Va bene Eh basta Ha smesso di giocare E teniamo palla Palleggiamo Famosi sti quattro palleggi Schilliamo un po' Ah si è svegliato Adesso mi fa il gol del 93esimo Guarda Due minuti di recupero Siamo al terzo E mezzo Non lo capirò mai FIFA Adesso deve segnare No perché è stupido Non ce la fa Guarda Lo deve far segnare Se no non finisce il tempo Due minuti di recupero Siamo al quinto Siamo quasi al sesto Va bene Va bene Abbiamo vinto Abbiamo vinto Dai Quattro a zero E si gode E si gode Vabbè lui non ha fatto niente Oh 15 tiri 15 tiri Non era molto bravo La squadrona Ma non era molto bravo E' una di quelle poche partite In cui Non conta script Non script Perché Se non sei buono Non sei buono Anch'io non sono buono Buono però Uh Gioca di Vision Rivals Carico completato Bello Becchiamoci Sti 100 credit Cecchino Ecco Ci vorrebbe un bel cecchino Agli sviluppatori Della EA Apple Si sarà addormentato Non so Comunque Comunque Basta Ma chiudo qua Perché sono anche le nove e mezza Domani si lavora E Festeggiamo Questi Dieci Tots Che abbiamo trovato Tra cui Salah Son Hazard Tutti li abbiamo trovati Proprio FIFA Vabbè 31 pacchetti Aperti Cosa saranno mai No Non abbiamo pagato Quindi giustamente FIFA ci dice No Tu devi pagare Va bene Comunque Questa Mi sa che la ripubblico Su Tutub Tutub E Basta Adesso Vediamo Con questi Crediti Con questi Giocatori Che abbiamo trovato Di farmi Qualche SBC Qualcuno Lo vendo Batasciui Insigne Pichè Batasciui Che grande De Bruin Tosse Il meglio Abbiamo trovato De Bruin Abbiamo trovato Com'è che si chiama Lui Che l'abbiamo Scartato Close Abbiamo trovato Close E Politano Prime Va bene Basta Ci salutiamo qua Buona serata a tutti Forza lo zoccolo duro Viva Michelotto Viva Paul Il Cume Viva Agi E soprattutto Amedeo E Gervasi E qua La chiudiamo Così proprio Con una citazione Del Cume Quale citazione Possiamo Palla piena Oppure Dai Ditemi qualche Cittazione Dai Michelotto Tu che le sei tutte Aspetto Un tuo commento Dai Vediamo Ma Paul Ma Paul Sarà morto O ci ignora Solamente No Vabbè Solo il Cume Capace di far Ste cose Siamo profani Apple Don't not parole E' vero Don't not parole In inglese purissimo Sempre più puro Va bene dai Buona serata a tutti E E che vinca il migliore Non so dove però Che vinca il migliore Viva Michelotto Soprattutto Viva Gervasi Grazie a tutti Soprattutto Soprattutto Grazie a tutti